Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Il centrodestra a compatto chiede a serie un consiglio comunale sul futuro del Santa Croce e sull'ospedale unico L'ex ospedaletto dei bambini da fiora all'occhiello a struttura degradata e abbandonata A Fano inaugura la mostra dedicata al rullino fotografico Ivan e Iudi due modelli malati di sclerosi multipla in posa per il nuovo calendario Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti cari telespettatori di Fano TV Questa è l'informazione locale sul canale 17 del Digitale Terrestre Occhio alla Notizia Un risultato, se vogliamo, la vicenda dell'ospedale unico l'ha ottenuto cioè quello di ricompattare il centrodestra fanese per chiedere adesso al sindaco di Fano Massimo Seri un consiglio monotematico sul Santa Croce e sulla sanità in generale All'insegna di una ritrovata unità state per portare avanti un'azione sulla questione ospedale che coinvolge un po' il vecchio e il nuovo insomma come intendete affrontare nel momento attuale questa emergenza possiamo dire dell'ospedale? L'unità tra le nostre forze politiche è ritrovata sui fatti non sulla mera politica quello che sta avvenendo sulla sanità in questa provincia e in questa regione è allucinante si è ritornati di fatto a sei anni fa sei anni fa la regione e la provincia avevano scelto quale sito per un nuovo ospedale fosse sei ore io voglio ricordare che allora come amministrazione comunale che io avevo l'onore di presiedere avevamo indicato con una delibera, non a chiacchiere, ma con una delibera l'area di Chiaruccia era stata bocciata dalla regione avevamo al suo tempo avuto la capacità di unire tutti i sindaci della Vallata del Metauro e del Cesano 22 sindaci fino a Pergola Fossombrone che tutti insieme a me, allora sindaco di Fano avevano sottoscritto un documento sull'area di Carignano, Santa Maria della Razzilla per la nuova sede del nuovo ospedale anche quell'ipotesi venne bocciata dalla regione Marche che insieme alla provincia scelse fosse sei ore a suo tempo però noi abbiamo chiesto e ottenuto serie garanzie per il Santa Croce firmammo io il sindaco di Peso, l'assessore regionale Mezzolani e l'allora presidente di Marche Nord Aldo Ricci un protocollo di intesa che prevedeva la pare dignità tra Fano e Peso finché non ci fosse stata una nuova sede ospedaliera e ricordo che erano i tempi che a Fano avveniva il rafforzamento dell'area materno-infantile con il nuovo primario nell'area ginecologica, con il primario nell'area pediatria con il primario ancora di chirurgia, con l'allora ancora primario di ortopedia con l'allora ancora primario di urologia era un'altra cosa 5-6 anni fa all'ospedale Santa Croce cosa è avvenuto invece in questi due anni? è avvenuto che l'ospedale Santa Croce è stato completamente svuotato non si è creato nessuna nuova struttura e grazie anche alla incapacità dell'amministrazione comunale di Fano si è arrivati ad una scelta che secondo me in questa fase è deleteria di nuovo si propone fosse sei ore si comincerà di nuovo a discutere, a litigare, a dividersi perché molte sono le criticità su quell'area non si combinerà nulla da qui secondo me a 10 anni e nel frattempo l'ospedale di Fano verrà probabilmente chiuso questa è veramente una cosa negativa il sindaco Seri non è stato minimamente capace di portare sulle sue posizioni un solo sindaco in tutta la provincia non è uscito a coagulare intorno a queste ipotesi qualizzare intorno a queste ipotesi nessuna alleanza con nessun altro comune ha cercato solo di salvare la faccia di fronte ai fanesi e ha cercato solo di salvaguardare la sua maggioranza cosa che secondo me non gli è neanche riuscita perché il partito democratico di Fano è su Fosso Signore il suo partito, alcuni consiglieri comunali hanno detto che sarebbero dimessi la Barbara Brunori, la Laura Serra hanno detto che sarebbero dimessi se fosse stata scelta l'area di Fosso Signore Rifondazione Comunista, Sinistra Unita si chiama adesso non più Rifondazione Comunista ha sempre manifestato con le sue bandiere rosse contro Fosso Signore ecco io vorrei capire a questo punto cosa farà l'amministratore comunale di Fano del Sindaco Seri Con queste premesse cosa pensate di mettere in campo per fronteggiare questa situazione? Come Forza Italia insieme alla tua Fano, Udc e Progetto Fano abbiamo intenzione di convocare subito far convocare un consiglio comunale monotematico per sapere appunto quali saranno le condizioni in cui verrà mantenuto ancora il nostro ospedale Santa Croce visto che ci vorranno ancora una quindicina d'anni prima della realizzazione del nuovo ospedale visto quello che sta succedendo e i nostri cittadini hanno bisogno veramente che l'ospedale sia funzionale sia per i cittadini fanesi sia per quelli delle vallate del Metauro e del Cesano Anche la chirurgia H24 è un problema che state portando avanti? Certo, un'altra cosa che chiederemo appunto in questo consiglio monotematico sarà appunto di cercare di ripristinare quello che è stato tolto in questi due anni Una consulta del turismo per rilanciare l'intero settore del Comune di Mondolfo L'incontro si è tenuto nella sala della Croce Rossa Marotta con operatori e associazioni Esiste la ferma volontà ha commentato l'assessore al turismo Davide Caporaletti di invertire la rotta in termini di programmazione turistica Riteniamo infatti che l'istituzione della consulta sia la base di partenza per accelerare i processi di ideazione e gestione di un calendario eventi che già dal mese di dicembre dovrà essere operativo e definito Un tempo a Fano c'era un fiore all'occhiello che si chiamava Ospedaletto dei Bambini che da quando è stato chiuso però sta andando sempre più in degrado Oggi abbiamo dato spazio ad una segnalazione andiamo a vedere che cosa abbiamo trovato E' stato il punto di riferimento per Fano e la Vallata per quanti necessitavano di cure pediatriche per moltissimi anni L'ospedaletto dei Bambini nel cuore della città a pochi passi dalla Santa Croce ora è da tempo sede di altre strutture della USL ma come avviene solitamente per queste strutture parzialmente utilizzate degrado e danneggiamenti sono sempre in agguato L'ospedaletto confina con un terreno di proprietà privata ma che funge da raccordo per pedoni e ciclisti con molte zone limitrofe e quindi punto di passaggio e visto lo spazio a disposizione anche di gioco per bambini e ragazzi Ma il pericolo è lì a portata di mano una parte della recinzione è stata divelta scoprendo appuntiti pezzi di ferro arrugginiti e permettendo l'accesso di notte ad estranei che danneggiano e imbrattano la struttura Qui ci passano spesso bambini anche animali e c'è veramente pericolo che si possa non fare male sul serio e inoltre qui c'è libero accesso a chi vuole perché dentro c'è la struttura e c'è anche la farmacia dell'Asur e a volte vengono lasciate anche delle attrezzature che possono essere portate via facilmente ci sono tra l'altro dei murales che testimoniano che la gente passa tranquillamente anche se questi sono simpatici da vedere e tra l'altro questa è una struttura che secondo me non deve andare in degrado perché può essere utilizzata in varie mode una struttura importante per la città dal punto di vista sanitario uno che saprebbe bene come ridare nuova vita alla struttura anche facendo risparmiare alla regione tanti soldi è Elmo Santini il presidente dell'associazione Marche Maruzza che da tempo in regione porta avanti una causa ben precisa un centro cure palliative pediatriche non esiste nel centro Italia noi da tempo abbiamo mandato i documenti abbiamo presentato istanze in regione per corsi di cure palliative pediatriche e qua colgo l'occasione perché proprio ieri una infermiera del nostro ospedale si è brillantemente diplomata in cure palliative pediatriche all'università di Bari ed è la seconda infermiera che Fano ha per curare questi bambini che in questo momento devono roccarsi o a Padova o ai gaslini di Genova quindi con notevoli spese per le famiglie prima di tutto e per la regione una breve di cronaca i vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera intorno alle 20.30 per la ricerca di una persona in località Acqua Viva di Cagli si tratta di un uomo uscito alla ricerca di funghi che però non ha fatto rientro a casa le ricerche si sono concentrate nelle zone in cui solitamente si ricava l'uomo che però poi è stato avvistato intorno alle 23 debole e infreddolito dopo i primi soccorsi è stato consegnato alle cure dei sanitari sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Cagli e Pesaro con il personale TAS che è l'acronimo di topografia applicata al soccorso per colpa di questa giunta regionale i porti marchigiani rischiano di rimanere isolati compromettendo il loro rilancio e provocando un danno economico incalcolabile la giunta regionale e soprattutto la vicepresidente d'assessore ai porti Anna Casini è priva di una chiara strategia politica così in una nota il consigliere regionale Mirko Carloni di Alleanza Popolare che ha presentato un'interrogazione sul tema e adesso vi mostriamo le immagini di una mostra che aprirà tra qualche giorno alla Mediateca Montanari la mostra come vedete dalla fotografia dal fermo immagine alle mie spalle tratta di rullini fotografici la pellicola fotografica un tempo stava al fotografo come la chiave inglese stava al meccanico era uno strumento anzi era lo strumento col quale il fotoreporter lavorava e creava gli effetti non aveva un programma nel pc o un'app sul telefonino ma usava tempi di esposizione bagni prolungati esposizioni particolari e camera oscura tanta camera oscura ma chi fotografa oggi con sofisticate macchine digitali e lavora di software anziché di camera oscura sa benissimo che tutto passa da lì il passaggio dalla lastra fotografica alla pellicola ha segnato la svolta verso la fotografia di massa la foto fatta dal neofita in vacanza al mare e senza dover essere per forza un esperto come Robert Capa e con le foto di massa anche le macchine fotografiche sono diventate di massa semplici nella meccanica e da usare sembra incredibile ma sono tutti pezzi italiani perché la storia della fotografia italiana anche nel campo così tecnologico è stata importante quindi per noi è assolutamente di prim'ordine porre attenzione su questo tipo di cultura che poi tra l'altro ci fa essere più attenti anche poi alle immagini conoscendo meglio i mezzi che hanno portato a questo sviluppo tecnologico La Ferrania era un'azienda che produceva entrambe ed è stata per tantissimo tempo leader di mercato a lei e i suoi prodotti è dedicata a questa edizione di Memo Fotografica dedicata al rullino che si inaugurerà sabato 22 ottobre è stata una delle più grandi aziende fotografiche italiane lo sviluppo maggiore poi si ha dopo la seconda guerra mondiale quando espone appunto dei modelli prestigiosi come la Condor prima fondata e costruita con la Galileo Galilei di Firenze e poi con tutta la sua produzione sempre legata alla produzione di massa una produzione per principianti a parte la Condor prima non c'era proprio la macchina poi completa per il professionista per l'amatore voluto erano tutte macchine legate un po' ai principianti L'ente carnevalesca organizza per venerdì e sabato il primo convegno su Fano città del carnevale 2017 carnevale è cultura e turismo si parlerà delle potenzialità dell'evento carnevale quale promotore di sviluppo del turismo gli appuntamenti sono alle 9.30 di venerdì nella sala della Concordia del Palazzo Municipale di Fano e sabato invece alla Mediateca Montanari in piazza Amiani sempre a Fano con inizio sempre alle 9.30 il teatro di Monte Maggiore al Metauro set fotografico per un giorno per una nobile causa la realizzazione di un calendario con due modelli d'eccezione vediamo Siamo al teatro di Monte Maggiore per intervistare Ivan Cottini è una sua amica che lo ha coinvolto in una nuova iniziativa importante naturalmente sempre a divulgare un messaggio per attirare l'attenzione e focalizzare i media su questo aspetto Ivan Sì, sì, è importante su due temi uno è il fatto del calendario il raccogliere fondi per aiutare i malati di sclerosi multipla e le loro famiglie nella zona degli ospedali dove è la mia compagna di avventura di oggi l'Aiudi, zona di Vicenza e la seconda grossa importanza di questo progetto è il messaggio che vuol portare visto che con le immagini più belle di oggi ci vuol fare proprio una mostra che girerà per tutta l'Italia il messaggio è molto forte che comunque chi sta male non deve chiudersi non deve nascondersi ma deve fare come facciamo noi oggi anche sulla sedia a rotelle malati veniamo qui, ci esibiamo ci mettiamo in mostra facciamo un calendario e quindi ecco non rinchiudersi e non fare sì che la propria condizione sia una gabbia nella quale chiudersi e che spesso infrastrutture e società tentano società soprattutto tentano di racchiudere sì la malattia si vive male soprattutto nella società non è capita non è accettata forse neanche dai parenti più stretti cioè diciamo la verità e viene identificata come veramente un handicap e ci vedono come un marchio siamo invalidi abbiamo un'etichetta non è un discorso di essere solo invalidi ma è essere un'etichetta un'etichetta nel mondo lavorativo e un'etichetta nella società soprattutto come ti è venuto di coinvolgere Ivan in questa cosa? beh tutto è nato per scherzo diciamo che prima di tutto io avendo già un figlio disabile ho sempre voluto fare questa iniziativa già prima che mi ammalassi nel 2009 è cominciato i primi sintomi e nel 2013 la diagnosi ho conosciuto Ivan sul social network così per caso e da lì è nata una bellissima amicizia perché è una persona speciale il calendario sarà disponibile dal 6 di novembre in poi al costo di 10 euro nelle edicole che aderiranno a questo progetto e anche nei gazebo messi in piede dall'associazione contro la sclerosi multipla sindaco una pagina comunque di solidarietà la quale voi non volete mancare assolutamente sì Montemaggiore sul discorso della solidarietà e del sociale per quello che può è sempre presente e siamo ovviamente ben contenti e lieti di ospitare oggi Ivan e questa sua amica di Vicenza per la realizzazione di questo calendario ecco gli scatti ritrarranno le sensazioni mese per mese che insomma Ivan e la sua partner esprimeranno appunto dal teatro di Montemaggiore Allora vedo già Lino Balestra nello studio di Missione Salute Lino di che cosa si parlerà questa sera? Sì Marco buonasera questa sera per Missione Salute parleremo di senologia con il nuovo acquisto dell'azienda Marche Nord il dottor Cesare Magalotti a capo dell'unità appunto di senologia insieme a lui anche lo staff parte dello staff del reparto dell'unità operativa naturalmente come sempre nella seconda parte della trasmissione daremo spazio alle telefonate quindi se volete già prenotare il vostro intervento per parlare direttamente con i medici in studio lo potete fare fin da subito quindi insomma a fra poco bene grazie Lino allora lasciamo spazio a Missione Salute in diretta tra poco le previsioni del tempo la pubblicità noi ci fermiamo qui grazie per averci seguito arrivederci grazie per averci seguito